Prima di iniziare questo episodio vi annuncio che in descrizione trovate un link dove potete acquistare The Sims 4, le sue espansioni e un sacco di giochi per PC e console scontati. Utilizzando quel link voi risparmiate e allo stesso tempo date un contributo concreto al mio canale. Ciao a tutti, Dreamlike Moon Vidal, benvenuto a un nuovo episodio di Super Frida. Oggi siamo qua col povero Aidan che è tristissimo per la nascita delle sorelle perché lo stiamo trascurando e quindi sta attraversando la fase dell'orso. Quindi oggi ci occuperemo un po' di lui perché mi sembra giusto ci siamo concentrati tanto su Melania e lui non ce lo stiamo filando di striscio. E Frida chiaramente vabbè vede che suo figlio sta attraversando una fase piuttosto brutta e ha intenzione oggi di farci una chiacchierata. Nel frattempo Melania sta giocando una partita multigiocatore online con i suoi amici di sempre per cui Chiara Stella, Antonio e Smeraldo. Julian sta lavorando, le bambine stanno esistendo e quindi Frida diciamo che è abbastanza libera in questo momento per parlare con Aidan. Con la fetta di torta va bene. tesoro dai non fare quella faccia te la caverai. Oh mamma mi sento così inutile. Non dire così tesoro perché ti senti inutile. Te la caverai. Non sei inutile non per la mamma dove stai andando Frida. Cioè gli stai appena dicendo che non è inutile e te ne vai. Gran bell'esempio. Che stai facendo? Torna da tuo figlio che ha bisogno di te. Dicevo per la mamma non sei inutile. Sei tutto il mondo. Per cui rallegrati. Cosa c'è che non va? E lui immagino che si lamenterà dei problemi se può. Chiedi un consiglio. Tutti i punti sono appartengono a Melania. Vabbè Melania è campionessa digitale. Ok ti sei ripresa tesoro? Non cucinare uova e toast. C'è il frigo pieno di roba. Apri e prenditi qualcosa. Una macedonia di frutta. Prendi una porzione. Fai volontariato o no? Io direi che è l'ora di parlare della fase. Chiedi della fase prima di tutto. Mamma a me piace tanto l'arte però non è abbastanza in questo momento della mia vita. E cosa ti farebbe più piacere eh? Che tu fossi un orso come me. Sono un orso non puoi farci niente. Beh forse potresti parlarmi del costume e magari indossarne uno uguale al mio. Va bene Aidan come vuoi. Certo perché chi è che non ha in tasca un costume da orso eh? Voi non ce l'avete male. Male. Eh cosa sto facendo? Qua dobbiamo andare. Indossa un costume da orso con Aidan. Ma certo la mamma ha un costume da orso proprio nella tasca. Che non ha. Va bene questo costume? Oh sì adesso va proprio bene. Mi è venuta voglia di un dolcetto. Il chiedi. No parla del costume da orso. Bene tesoro adesso che mi sono vestita da orsa dell'uva mi spieghi cosa succede perché sei abbastanza stato ultimamente. Beh sai io mamma non non le volevo Arianna e Decate. Non potevi fare almeno un maschio? Eh no? Due femmine. Mi sento in inferiorità. Ma dai tesoro c'è anche papà che è un maschio e anche Rusty. Sì ma non è la stessa cosa? Beh ha anche ragione Aidan. Beh tesoro non è che puoi vestirti da orso solo perché non ti piace il fatto di avere altre due sorelle? No? Lì sta pensando mio fratello è proprio scemo. Scemo dentro. Eh vabbè fatti gli affari tuoi. Anzi tesoro fai una cosa. Vai a fare jogging per schiarirti le idee perché anche tu ne hai bisogno eh. Aidan tienila un attimo che tua madre ti deve parlare. Vediamo se riusciamo a risolvere questa fase. Sprona A. Chiedi ancora della fase. Aidan tienila. Che ce la puoi fare ancora? Oddio jogging con questo tempo non è il massimo. Vabbè. Sì va bene Aidan. A parte dirci ovvietà cos'altro possiamo fare. Eh niente. Va bene Aidan. Allora io resterò un orso per un po'. Ok? Poi quando ti verrà voglia di cambiare quel costume ne parliamo insieme. Uh gli è passata forse la fase. Aspetta 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 eh. Aspettate un attimo. No. Eh vabbè. Niente allora io direi che ci occupiamo della sua aspirazione. Per cui adesso sì che puoi andare in bagno. Mamma Frida che per due giorni non andrà al lavoro. Si mette a sperimentare con le pozioni. Per cui prepara pozione della buona sorte. Julian sta continuando a lavorare? Sì. Le gemelle sono a posto. Ok lei sarà fradicia? Ah no. Si è aperta l'ombrello. Brava Meli. E quindi adesso abbiamo tutto il tempo per Aidan. Dobbiamo solo conseguire il livello 10 di creatività. E possiamo farlo in un attimo. Per il sabato ho pensato a un bel programmino per Aidan nel senso che ci sono stati un po' di cambiamenti nei club. Il cappello parlante è passato ai bambini mentre Melania ha il suo gruppo di grandi. Però vi dirò un'altra volta di cosa si occupano. Non si occupano più di magia. E Beatrice è diventata la leader di questo club. Però ci sono dentro solo praticamente Aidan, Beatrice e Sofia. E siamo venuti a Casa Morgan per invitare nel club anche il gemello di Sofia. Fa così caldo tesoro? Sì direi di sì. Allora vediamo se Giulio è a casa. Per cui presentazione divertente direi. Perché con questo costume più che divertente non può essere la presentazione. Ciao bambini vi preparo dei biscotti? Oh Abby che carina anche se comunque no. Perché tra un po' andremo a Windenburg al covo segreto di questi piccoli stregoni. Ciao! Vuoi far parte del nostro club? Quello dove c'è anche tua sorella? Ma perché no? Dai che andiamo a divertirci. Allora io direi club soltanto il leader può invitare i nuovi membri a entrare. Allora dobbiamo strappare la leadership a Beatrice. Mi dispiace perché è una brava ragazza. Però mi serve che Aidan sia il leader. Club discuti di come il leader si sente. No convinci a dimettere da leader. Proviamo. Aspetta che ci vado a parlare eh? Perché io non sono sicura di stare troppo simpatico a Beatrice. Vabbè adesso ci pensiamo noi. Tranquillo. Ma senti non sarebbe meglio se fossi io il leader di questo club? Ma perché scusa? Sono io la più vecchia. La più grande. Pardon. No perché dovrei. Sei fuori di testa Aidan. Questo è il mio club. No a dire il vero è il club di Melania. Di sua sorella. Però vabbè. Allora discuti di come il leader si sente. Ups adesso si sente decisamente arrabbiata. E poi cosa ci fai con quel costume da orso? sei decisamente ridicolo. Ecco brava diglielo. Vediamo cosa dice. Beh è proprio bello essere leader di questo club. Mi piace davvero dirigere. Ho la certezza che i membri si direbbero soddisfatti del mio lavoro. Ma allora perché non può entrare Giulio? Perché a me non sta simpatico. Ah cominciamo bene. Allora facciamo così. Passiamo un attimo a Beatrice. Perché io vorrei che comunque Giulio facesse parte del club. Eccoci dalla parte di Beatrice che guarda di sottecchi il nostro Giulio. Ma vabbè. Vedo che c'è amicizia tra di loro. Incontra un nuovo sim. Si conoscono? Sì che si conoscono. Sì ho appena visto che c'è relazione. Sono sveglia. Molto sveglia. Allora andiamo subito a a fare alcune cose. A tutti? A aperto su tutto. Perché? E ci mettiamo anche Giulio. Altri bambini? che conosciamo? Ma nessuno che ci interessi a dire il vero. No anche perché questo è dedicato ai figli degli stregoni? O futuri stregoni? Vabbè che le attività sono molto generiche. Vabbè confermiamo. Va benissimo. E quindi a questo punto io direi che si va a Windenburg. Per cui parliamo del club un attimo. Dà il benvenuto. Beatrice darà il benvenuto in questo club. Ma perché lei è la più grande? No direi di no. Non so perché. Non so perché è diventata lei la leader. Va bene non mi piaci. Però però ti dò una possibilità. Mamma mia che caratterino tesoro. Ed ecco che il raduno appena iniziato. Siamo tornati alla nostra ex biblioteca che è a fianco a quella nuova. Dire il vero. Dovrebbe essere questa. Questa? Vabbè sì. Qualcosa del genere. Questa? Non mi ricordo. Vabbè comunque questa è l'ex biblioteca di Windenburg per chi non avesse visto le stagioni scorse. Dove Melania per la prima volta ha creato diciamo la base del club del cappello parlante. Allora. Blocca la porta per tutti tranne i membri del club il cappello parlante. Dovrebbe essere già bloccata eh. Però non si sa mai. E anche questa. Sì. Altri ingressi? Non mi pare. Ripeto dovrebbe essere già bloccato l'accesso ad altri sim però non si sa mai. E quindi qua hanno il loro covo. Vai qui insieme. Dove possono giocare? sperimentare. Sperimentare soprattutto. Qua non è dipinto. Perché? Perché ho fatto ste cose. E diciamo che non essendoci attività da maghi per bambini è un po' difficile fare in modo che somigli a un club magico. Però non è detto che tutti diventino stregoni questi bambini. magari alcuni come Melania decidono di seguire un'altra strada. Ah ok questa porta bisogna bloccare. Blocca per tutti tranne i membri del club. Bene e io direi che esegui uno spettacolo ladro di marionette per... si può fare insieme? No. Esegui... alla ricerca del ladro di quaderni per tutti. Perché sono questi gli amici di Aidan. Coloro che cresceranno insieme a lui. Che condivideranno il loro... il suo percorso di vita. Insomma. Sono più o meno sue coetanei tutti quanti. esattamente come Melania, Chiara, Stella, Smeraldi e Antonio. Aidan, Beatrice, Giulio e... perché non mi ricordo? Sofia. Che per ora si chiamano così. Poi un domani dovrebbero poter cambiare nome. Devo riguardarmi un attimo i commenti per i nomi che mi avete dato. Sono bellissime queste cose qua. Sono veramente stupende. Io adoro il teatro delle marionette. È un oggetto fantastico. un po' ingombrante da tenere in casa per cui raramente lo metto. Vabbè giusto. Adesso lui va da Sherlock Holmes. Ma aumenti qualcosa? Sì. Aumenta la creatività? No. La socialità. A noi serve la creatività. Vediamo cosa possiamo piazzare per la creatività. Ah beh c'è la casa delle bambole. Il castello che abbiamo anche a casa. Allora dopo andremo a fare quello. Ma è già finito? Ma mi ha venuto a voglia di dolci. Sì è già finito. Dai andiamo a giocare un po' al castello anziché a scuola. Eh? Che è molto più divertente. Guardatelo che faccia. Io l'adoro. Bene. Allora gioca... No. Sì. Gioca con... Facciamo che giocherà con... Con Giulio. Diciamo che i due maschietti si conoscono un po'. Prendono un po' di confidenza. Anche perché adesso non sono amici. Tu cosa fai? Scusa? Bibliotecaria. Eh mi spiace. Quel libro resterà per terra. Vita natural durante. Peggio per te. Questo è luogo privato di Aidan e dei suoi amici. Ah ma c'è anche tutto questo. Chi è che si ricordava? Ho fatto una discoteca nel... nel sotterraneo del castello. Va bene. Non me lo ricordavo. Ed ecco che Aidan ha appena completato la sua aspirazione. Tratto guadagnato dotti creative. Sì non serve che distruggi la bambola. Per cui io direi che selezioniamo subito un'altra ispirazione. Ciao aspirazione. Dobbiamo farle tutte. A questo punto direi sociale. Così stringe subito amicizia con i bambini. Almeno ci proviamo. Che secondo me è la più difficile. Perché non è facile sviluppare rapporti sociali in The Sims 4. Parla della scuola. Parla del formaggio grigliato. Poi cos'è? Condividi idee. Giusto? Lui voleva condividere idee. Per cui... Non so se c'è... È raggiunto il livello 6 di abilità sociale comunque. C'è di buono che le abilità le sviluppa molto rapidamente perché... È... Bebè superlativo? Com'è che si chiama quel tratto? Sto andando ovunque tranne dove devo andare. Esatto. Bebè superlativo. Uh, tu dovresti incontrare cinque nuovissime? Allora, facciamo così. Presentazione amichevole. Anche con lei, con la bibliotecaria e anche con Nalani. Però Nalani se ne sta andando per cui è meglio se ti sbrighi. Basta, è passata la fase dell'orso? Non me ne ero accorta. Sì, è passata. Non ho capito bene quando, a che punto. Ma meglio così. E Nalani se n'è andata, tesoro. Vabbè, andiamocene anche noi. Torniamo a casa. Perché questa aspirazione l'abbiamo completata. E ci tenevo. Torniamo a casa. Andiamo a vedere come se la stanno cavando gli altri. Purtroppo, Erda, dall'ultima volta che Frida è tornata al lavoro, non è più a casa. Ah sì, è a casa. Speriamo che sia vero. Ma sì, portati dietro gli amici. Va benissimo. Perché ho notato questa cosa. Quando un sim va al lavoro, un incantatore va al lavoro, il suo famiglio, se è animale domestico, se ne va e se voi siete fuori casa con qualcun altro, quando l'incantatore torna a casa dal lavoro, il famiglio non torna a casa. Sì, detta così è... L'ho detta malissimo. Però vabbè, spero di aver reso l'idea. E quindi devo aspettare la prossima volta che Frida andrà al lavoro e essere a casa nel momento in cui lei tornerà. Così anche Erda tornerà. Togliti questa cosa. Per favore. Mettiamoci qualcosa di... di sensato. Che potrebbe essere anche questo, perché no? Tu perché sei sempre a disagio tesoro? Cioè hai sempre qualcosa che non va. Tu devi fare jogging come se non ci fossero domani. Per cui... Fai jogging per schierirti le idee. Altro che capricci. Cerca informazioni sui vampiri con un computer. Mettiti anche tu, per favore. Con sta storia dei vampiri. Già è venuto Vlad a bussare alla porta una volta? Secondo me Frida potrebbe fargli qualche scherzetto. Per cui imbottiglia tutto e Aidan... Beh, terminiamo il raduno. No, è già terminato. Va bene. Cibo ce n'è, per cui chi ha fame si prende pure da mangiare. Lui cosa sta facendo? A chi è che l'ho detto imbottiglia tutto? Frida? Perché tu stai andando a imbottigliare tutto? A proposito, tu, il tuo lavoro, come stai andando? Scade lunedì alle 9, più che meglio se ti dai da fare. Per cui freelance continua a sviluppare un'app per cellulari. È una cosa lunghissima. Mel, brava, sta andando. Frida? Prepara un'altra pozione. Dei bisogni abbondanti. Fate? Andiamo al bar per karaoke a fare qualche duetto. Ho fatto esercizi a non finire. Guarda, per quanto sia allettante, tesoro, questa è la mia sim self, no, perché oggi avevo in programma anche di far crescere le gemelle. Per cui, adesso che Frida ha finito questa pozione, io direi che possiamo andare a farle crescere. Per cui, nulla di che, quando i bebè crescono, sapete, io non faccio feste né nulla del genere. Semplicemente le faccio crescere. Allora, questa è Arianna, mi pare. Sì, allora fai passare di età. E poi facciamo passare di età anche Eccate, perché volevo tenerle bebè e, scusate, neonate per un po'. Però, cioè, mi avrebbe fatto comodo, devo essere sincera. Acqua, ok, è completato. Però, dai, sono curiosa di vederle da bebè. Arianna è passata di età. Io farei che... Allora, Arianna l'immagino viziata. E c'è un motivo. Guardiamo quant'è carina! Ho... Agli occhi di Frida. Almeno credo. E i capelli di Julian, però, io l'avevo immaginata molto diversa, per cui in Cas la cambieremo. Però il visino è spettacolare, a parte il fatto che sembra voler ammazzare sua madre. Ma vabbè, dettagli. Dopo in Cas ce la vediamo per bene. Frida? Imparata nella culla? No, eh. Mi sa che i lettini li metto qua, perché non ci stanno da nessuna altra parte. Questa casa non era pensata per quattro figli, ma solo per tre. Sì, vabbè. Forse dove ce ne stanno tre, ce ne stanno anche quattro? Ma anche no. Fai passare di età, Ecate. Tesoro, appena cresciuta, già fai capricci? Eh sì, eh, lei è viziata. Invece, Ecate la immagino indipendente. Cioè, sono abbastanza agli antipodi queste due gemelle, come potete anche ben immaginare. Oh, amore. Che faccina strano che hai, Ecate. Comunque adesso le vediamo subito, subito, subito in Cas. Erda comincia a stare male, però anche se la chiamo non arriva. Purtroppo Frida deve andare al lavoro. Urka, è già così tardi? Beh, io direi che Aidan può andare a dormire a questo punto. Tu chi sei? No, grazie. Proprio non ci tengo. Anche se deve essere un'amica stretta di Julian, però no. Meglio non fidarsi. Non si sa mai chi può essere un vampiro. Oh, siete ancora qua, ragazzi? Va bene, a parte che non ha sonno, però vabbè. Facciamo che cerchiamo di seguire dei ritmi normali, eh. Tu sei dimagrita un pochino? Direi di no. Per cui vai ancora a far jogging. Vai oltre i limiti. Beh, un pochino sì però, eh. Un pochino è migliorata. Dai, vai a farti un altro jogging, mentre io sistemo le gemelle. Ecco qua le bambine. Sono entrambe streghe, eh sì. Però una di loro due non diventerà strega, anzi non gliene potrà fregar di meno. Non è difficile capire chi delle due, ma non è detto, per carità. Allora, lei è Arianna. La volevo esattamente così. Era lei la figlia che avevo immaginato che avrebbe avuto per ultima, Frida. Ed è esattamente così. Uguale, uguale a come era nella mia mente. Ecco, a te invece non era prevista. Ma vabbè, andiamo con ordine. Allora, questo è il suo primo abito da caldo. Non so perché sono qua. Vabbè, primo abito quotidiano. Bellissima. Secondo. Sono restata su toni chiari, bianco, rosa, azzurro, formali. Da notte, uno, per quando è caldo. E due, quando è freddo. Da festa. Uno. E vabbè, questo... Perché è un po' eccentrica lei, me ne immagino, no? E due. Questo è un po' più easy. Meno carnevalesco, ecco. costume da bagno, clima caldo e clima freddo per stare in casa, per uscire. E per uscire quando c'è la pioggia, o la neve, o fa molto freddo. E quindi questa è Arianna. Ecco a te, è una vera sorpresa. Allora, eccola qua. Ok, incantatrice anche lei, ma... Guardate. Vabbè, le ho cambiato il colore degli occhi e dei capelli, perché la volevo esattamente il contrario della gemella. Sono due gemelle opposte, diciamo. Ma è cresciuta così, con queste orecchie. Ne Frida, ne Giulia hanno queste orecchie. Penso che sia, dato dal fatto che è incantatrice, che potrebbero nascere così... Boh, comunque non gliele ho messe io, eh. Ve lo assicuro. Comunque, anche lei bellissima. Questo è il suo primo abito quotidiano. Secondo, beh, come vedete, lei ha toni molto più scuri. Gli abiti da principessa proprio non li vuole, a meno che non contengano nero toni scuri. Formali, ecco, è uno dei pochi eleganti a cui... Che, insomma, le piace indossare, ma perché è molto scuro. Da notte, per quando è caldo, per quando è freddo. Da festa. Adoro queste. Costume da bagno. Clima caldo. Vabbè, sì, questo perché non ce ne erano altri di toni scuri. Avrei potuto cercare meglio, però... Vabbè, le lasciamo anche così, non c'è problema. Anzi, avevo appena visto la cosa che mi piaceva. La cambio al volo. Questo, sì. Quindi, parti inferiori ci sta? No. Sì, dai. Per quando è estate bisogna mettersi leggeri, mia cara. Sì, come un pugno in un occhio. Perfetto. Per cui, clima caldo e clima freddo per stare in casa. Lei adora queste babbucce. Per uscire e per uscire quando piove o c'è tanta neve. E quindi, queste sono le nostre bimbe. Una più bella dell'altra. Sono veramente stupende. Sono molto diverse e sono agli opposti anche caratterialmente. Per cui, torniamo in gioco. Però io, per oggi, vi saluto qui. Io spero che questo episodio, dedicato un po' ad Aidan, vi sia piaciuto. Io spero di riuscire a terminare l'aspirazione di Frida riguardante le pozioni. Prima che esca università, però, nel momento in cui sto registrando, ancora non si sa quando uscirà università. Per cui, non posso organizzarmi sotto questo punto di vista. Ma vabbè, non c'è problema. Le bimbe che stanno facendo? Niente, hanno fame. Allora, Frida. Devo trovare un modo per portare dei lettini anche qua giù. In modo che possano dormire un po' ovunque. Vabbè. Urca. Furia per la fame. Va bene, allora, Frida comincia a portare giù le bimbe. Dov'è? Anzi, portiamo su noi il cibo. Anzi, se finisce, Frida può far materializzare il cibo. Per cui, non è un problema nutrire le bimbe. Dicevo, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace. Commentate, fatemi sempre sapere le vostre opinioni. Io ci tengo parecchio. E fatemi... Anche sapere cosa ne pensate di Aidan, soprattutto. Cosa dovrebbe fare? Come ve lo immaginate? No, non tu. Prendi una porzione, tu. E vabbè, sì. Lasciatemi quindi un commento. Ditemi che ne pensate delle gemelle di tutti quanti. Iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire questa serie. Vi ricordo che nella descrizione... Uh, Erda! Ciao Erda! Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i link alle mie serie. Trovate anche i link ai social e ai canali dei miei amici youtubers. Prendi una porzione patata. Trovate anche il link per scaricare videogiochi scontatissimi. e anche il link al mio secondo canale. Se vi interessano i libri, porto tante recensioni. Quindi, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao tutti!